Benvenuti su Medicina e Informazione Web TV. Si è svolto a Roma, nella sede della Regione Lazio, l'evento La Salute Mentale, una sfida sanitaria per la Regione Lazio, promosso da Johnson & Johnson Innovative Medicine, per porre la salute mentale al centro della medicina del territorio, con percorsi dedicati in ogni regione italiana, così da andare incontro ai bisogni dei pazienti e delle loro famiglie. Bisogni che negli ultimi anni sono in costante aumento, anche fra i più giovani, con la depressione maggiore, che rappresenta una fra le principali problematiche. Sarà essenziale quindi promuovere la conoscenza dei disturbi mentali, ridurre lo stigma sociale verso le persone che ne sono affette e favorire una corretta e tempestiva presa in carico del paziente, per migliorare il benessere delle persone e mitigare gli impatti sociali ed economici correlati alla patologia. Il principale bisogno di tutti i pazienti è la cura. Noi abbiamo bisogno di intervenire su una richiesta che è epidemiologicamente diffusa. Noi abbiamo un disagio psichico, al di là delle singole patologie come la depressione, l'ansia, che coprono all'incirca tra il 20 e il 30 per cento di tutta la popolazione. Noi abbiamo bisogno di intervenire su disagi che non sono più strettamente categoriali ma sono più disagi di spettro, dimensionali, per cui esiste un disturbo della nutrizione ad esempio molto diffuso nei giovani ma non è che va da solo, va assieme all'ansia o alla depressione e poi questi disturbi si modificano nel corso della crescita e nel corso di tutto il ciclo della vita. Il tavolo tecnico della salute mentale che io coordino sta elaborando un nuovo piano nazionale per l'assistenza sulla salute mentale di azione, un PASMA cosiddetto, l'ultimo del 2013. Questo piano ha al suo interno diverse linee di azione che speriamo abbastanza rapidamente di riuscire a proporre che riguardano ovviamente tanto aspetti organizzativi quanto aspetti più strettamente clinici sulle linee guida. Insieme all'Istituto Superiore di Sanità abbiamo attualmente programmato delle linee guida sulla depressione e sul disturbo della DHD che hanno bisogno come tutte le linee guida di un certo periodo di tempo per essere realizzate. Il problema principale forse è quello di non ripetere sempre un po' le stesse cose che sentiamo da diverse parti ma cercare di intervenire in maniera veramente proattiva, attiva su quello che è una nuova cultura della salute mentale che oggi riguarda l'affrontare, l'identificazione di una serie di cosiddette determinanti psicosociali che incidono potentemente sul nostro disagio e sul nostro benessere psicologico in tutte le fasi della vita. Un'ultima azione che speriamo di riuscire a promuovere molto rapidamente per esempio è una particolare attenzione sul disturbo depressivo nelle donne nel peripartum che è un tema estremamente delicato ma sul quale abbiamo già prodotto un documento che adesso aspetta la risposta delle società scientifiche per poter trovare la sua ultima definizione. I diversi interlocutori intervenuti al tavolo di confronto nella sede della regione Lazio hanno individuato sei proposte concrete in ambito organizzativo e gestionale per favorire una migliore presa in carico del paziente con disturbi mentali nella regione Lazio, un modello che potrà essere replicato e diffuso in altre realtà regionali. Fra le proposte un tavolo di confronto regionale in cui siano presenti clinici istituzioni certo ma anche associazioni pazienti e caregiver con la loro esperienza, campagne di sensibilizzazione per abbattere lo stigma, rilancio della medicina territoriale e percorsi diagnostico terapeutico assistenziali dedicati, uso della tecnologia e telemedicina e corsi di formazione per individuare precocemente i disturbi mentali. La giornata di oggi è uno sviluppo di un incontro che era stato fatto tempo fa. La proposta che emerge è quella, come dire, se noi stiamo lavorando a livello nazionale è importante lavorare a livello regionale, per cui creare anche in questo caso un tavolo in cui vi siano i maggiori protagonisti che si occupano di salute mentale, come affrontare un sistema organizzativo che ha bisogno di essere un po' perfezionato, di essere molto più presente nel territorio, però tutto questo ovviamente è legato alle risorse che saranno messe a disposizione. L'Italia si posiziona agli ultimi posti in Europa per risorse economiche allocate per la salute mentale, con un finanziamento che si attesta circa al 3-4% del Fondo Sanitario Nazionale, contro il 10% di altri paesi ad alto rendito. E questo dato fa capire quanto sia necessario l'impegno delle istituzioni centrali e regionali. Noi ad esempio a dicembre in giunta abbiamo approvato due atti fondamentali, due atti programmatori, uno la riorganizzazione della rete ospedaliera, quindi la riqualificazione dei nostri ospedali, nell'atto di programmazione ci sono anche nuovi ospedali e dove si potenzia ovviamente tutta l'assistenza per quanto riguarda la salute mentale, poi un altro atto altrettanto importante come atto programmatorio che è quello dell'assistenza territoriale. Quando parliamo di salute mentale dobbiamo avere la capacità anche della immediata, della precoce presa in carico, la presa in carico precoce quindi l'assistenza territoriale, il sostegno di prossimità si riesce a derogare quando abbiamo anche un efficiente territorio, non solo quando c'è la capacità della struttura ospedaliera, del nosocomio, ma ci deve essere un territorio altrettanto efficiente, quindi cosa vuol dire il territorio? Vuol dire le COT, vuol dire le case di comunità, vuol dire gli ospedali di comunità e tutto questo diciamo si sta realizzando grazie anche al, come sapete bene, le risorse del PNRR. Ricordo ad esempio la legge regionale, la legge 5 dell'11 aprile 2024 che è la legge a sostegno del caregiver, sappiamo che quando parliamo di salute mentale e parliamo insomma di una popolazione nel Lazio di circa il 27%, un milione e mezzo, quindi una popolazione ampia che è colpita dalla salute mentale sappiamo che la salute mentale è prioritaria per il benessere di ogni singolo individuo, viene coinvolta la famiglia e viene coinvolta la figura del caregiver che è una figura straordinariamente importante. Quindi noi abbiamo approvato questa legge, una legge che ha una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro nel triennio, 24-26, ed è una legge che dà un ruolo centrale, fondamentale nella rete delle politiche socio-sanitarie. Questa è una grande novità, fino a oggi il caregiver ha subito passivamente il piano di assistenza individuale, il cosiddetto PAI, oggi invece grazie a questa legge il caregiver svolge un ruolo, ripeto, centrale nel preparare, nel progettare, nel redigere il PAI, che è il progetto di vita dell'individuo fragile, fragilissimo, dell'individuo che ha bisogno di assistenza. Stiamo ascoltando proprio gli attori coinvolti, che sono la parte più importante, cercare di mettere in rete tutte le persone che a vario titolo intervengono e hanno parte attiva in questo sistema penso sia fondamentale. Anche l'incontro di oggi è fondamentale per ascoltare non solo la parte tecnica, clinica, ma ascoltare anche il disagio delle tante famiglie che vivono questo problema, perché è un problema che purtroppo a me riguarda anche i familiari dei pazienti. Sono circa un milione e mezzo le persone coinvolte nella nostra regione, circa il 27%, quindi è un tema sul quale l'amministrazione regionale deve investire non solo risorse, ma deve investire avendo una visione complessiva di tutti gli enti coinvolti che devono avere un ruolo attivo, ma soprattutto devono stabilire un percorso che sia un percorso clinico condivisibile da tutti. Promuovere dei tavoli di confronto e accendere una luce sui disturbi mentali e sull'importanza di percorsi dedicati, di prese in carico, cura e assistenza è un primo passo verso una sinergia e una collaborazione fra tutti gli attori del sistema salute necessario a far sì che i pazienti e le loro famiglie non si sentano soli, come accade invece purtroppo ancora troppo spesso. Oggi è una giornata importantissima perché si conclude una settimana di eventi, iniziative sul territorio nazionale e anche regionale, come oggi nella regione Lazio, che hanno visto Johnson & Johnson impegnata nell'organizzare oltre 100 iniziative che possono quindi dare significato all'impegno della nostra azienda e quello che quotidianamente facciamo per la ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci che possono migliorare la vita delle persone tutti i giorni. Abbiamo voluto incontrare i clinici, le istituzioni, le associazioni pazienti, gli esperti per sottolineare l'importanza della salute e dell'innovazione per far sì che le persone che soffrano possano un giorno vivere libere da malattia. Oggi, nella giornata che siamo qui a celebrare alla regione Lazio, abbiamo voluto concentrarci sul tema della salute mentale, un tema di assoluta importanza, motivo per cui abbiamo voluto darne una così importante attenzione nell'ambito della campagna Insieme verso la medicina del futuro. Oggi, parlando con esperti del settore, ma anche con le istituzioni presenti, sarà possibile andare a individuare delle proposte che potranno essere a beneficio delle persone che soffrono di queste patologie. Perché la regione Lazio? La regione Lazio rappresenta una delle regioni in cui c'è un'incidenza maggiore di queste tipologie di patologie. Stiamo parlando del 27% a fronte di un 20% invece della media nazionale e quindi era per noi un imperativo andare a promuovere non solo un momento di confronto, ma quello che viene oggi presentato, quindi un position paper da parte degli esperti che si sono incontrati nei mesi scorsi per definire quelle che potevano essere delle proposte da fornire alle istituzioni e quindi aiutarli in un percorso poi di implementazione anche sul territorio e quindi di consentire che effettivamente queste buone pratiche, queste suggestioni, possano diventare realtà per i cittadini che soffrono di queste patologie. Lo facciamo in un contesto autorevole. Siamo oggi presso la sala Tevere della giunta della regione Lazio con esperti di primissimo livello, sia da un punto di vista scientifico, sia da un punto di vista delle associazioni pazienti, oltre chiaramente alla presenza delle istituzioni che da subito hanno accolto l'importanza di questo messaggio. Come Johnson & Johnson vogliamo essere parte della soluzione e quindi promuovere una serie di iniziative come quella di oggi per far sì che quindi anche nel settore della salute mentale, dove dal principio Johnson & Johnson è impegnata attraverso una ricerca che ha cambiato il paradigma vero e proprio del trattamento di queste patologie, si possa arrivare a un percorso di presa in cura efficace e tempestivo per tutti coloro che soffrono di disturbi mentali. Ringraziamo i nostri ospiti per aver ricordato quanto ci sia ancora da fare per dare alla salute mentale l'attenzione necessaria a riconoscere i sintomi precocemente, trattarli tempestivamente ed essere accanto alle famiglie per dar loro il supporto necessario. Ringrazio anche voi per essere rimasti in nostra compagnia e arrivederci qui su Medicina e Informazione Web TV.